Nome. Ed Jane. Soprannome. Il macellaio di Plainfield. Numero vittime. Due accertate ma sospettato di 10. Modus operandi. Atti di macabro feticismo su cadaveri dissotterrati. Probabile cannibalismo. Hai spirtato film come Psycho e non aprite quella porta, Edward Jane spiazzò l'America intera e ha avuto ripercussioni fino a oggi. Edward Jane nasce il 27 agosto 1906 alla crosse, Wisconsin. Sua madre sarà la sua disgrazia. Donna fanaticamente religiosa, Augusta cresce i suoi figli secondo un codice morale severissimo. Il mondo di Augusta è popolato da peccatori e la Bibbia è l'unica salvezza. Il padre ha una personalità molto debole e subisce gli ordini della moglie. Alcolizzato e disoccupato a vita, è del tutto dipendente da lei. Proprio grazie alla macelleria, nel 1914, Augusta realizza il proprio desiderio di comprarsi una fattoria, con 195 acri di terreno, in piena campagna, vicino a Plainfield. Eddie è cresce e marginato, evitato dai compagni perché è effemminato e timido. Non ha nessun amico, e quando riesce a farsi delle amicizie la madre lo sgrida e lo punisce. Nel 1940, quel fallito di suo padre lascia vedova Augusta. È in questi anni che Eddie comincia ad avere i primi segni di follia mentale. Ritardato socialmente e emotivamente, Edward si trova perfettamente a suo agio con i bambini tanto che finisce per fare il babysitter ai vicini. Nel dicembre 1945 una serie di ictus gli portano via anche la madre, lasciandolo solo al mondo. La stanza di Augusta viene sigillata, con all'interno tutti gli oggetti da lei utilizzati. Edward diventa un'eremita e comincia a fare letture strambe. I suoi preferiti sono i libri di anatomia. Alla fine, lettura dopo lettura, Eddie impara bene l'anatomia umana e diventa un esperto nelle tecniche per rimpicciolire le teste. Un altro hobby molto particolare di Eddie è leggere i necrologi sul giornale locale. Dalle necrologie può venire a sapere quando muore qualche donna. Ricevuta la notizia, si reca al cimitero per studiare il cadavere e per placare le proprie curiosità sulle femmine. In sede di interrogatorio Ed Jane ha più volte giurato di non aver mai avuto rapporti sessuali con i morti, però provava piacere a strappare pelle e parti dei corpi da quei cadaveri. Gli psichiatri che studiarono il caso, dissero che amava talmente sua madre che aveva bisogno di profanare le tombe per prelevare pezzi di donne, in modo che gliela ricordassero. Quando sua madre morì, non riuscì a resuscitarla come avrebbe voluto e allora cercò delle sostitute. Ne portò una a casa e la mise a sedere al tavolo della cucina. Creò una vera e propria tavolata di cadaveri. Nell'inventario della polizia figurano crani, scheletri, ciotole e mobili o fatti con ossa, divani, cestini, tamburi rivestiti di pelle umana, teste rimpicciolite, vagine sotto spirito, ciotole piene di nasi, una poltrona con braccia al posto dei braccioli, una collana e una cintura fatte di capezzoli femminili. In un armadio vengono ritrovati i vestiti fatti di pelle di donna. Ma le vittime del cimitero si rivelano ben presto troppo brutte e anziane, così Jane comincia a procurarsi da solo la materia prima. Tra il 1946 e il 1957, la polizia del Wisconsin ha a che fare con aumento incredibile di persone scomparse. Quattro casi soprattutto preoccupano le autorità. Il primo è quello di una ragazzina di otto anni, Georgia Weckler, sparita mentre tornava a casa da scuola il 1 maggio 1947. Un'altra ragazza scompare un paio di anni più tardi alla crosse. Evelyn Hartley di 15 anni svanisce mentre sta facendo la babysitter in città. Nel salotto riviene una scarpa della figlia, degli evidenti segni di lotta e qualche macchia di sangue sul bordo della finestra. Nel novembre 1952, due uomini decidono di farsi una birra in un bar di Plainfield prima di andarsene a cacciare cervi. Dal giorno dopo, né loro né le loro auto verranno più visti. L'ultimo caso avviene nell'inverno del 1954, vittima alla custode di una taverna di Plainfield, Mary O'Gann, scomparsa misteriosamente mentre era di turno notturno. 17 novembre 1957. È notte fonda quando la polizia entra nella cadente fattoria Jane. Edward, il proprietario, è sospettato del furto in un ferramenta e della scomparsa della titolare, Berenice Warden. Più di una persona ha dichiarato di averlo visto aggirarsi intorno al ferramenta prima del furto. La casa è nel disordine più totale, immondizia ovunque, buio pesto. Odore di morte e putrefazione. Nel buio lo sceriffo sente qualcosa che sfrega dall'alto contro la sua giacca, e i due uomini della legge sollevano lo sguardo all'unisono. Un corpo è appeso a testa in giù tramite dei ganci fissati nel soffitto. Si fa per dire a testa in giù, in realtà il corpo è decapitato e le interiore sono state eliminate tramite uno squarcio sull'addome. Dopo la scoperta del cadavere e degli altri manufatti orrendi, gli investigatori cominciano ad esplorare le altre stanze della fattoria e a scavare nel terreno circostante, nella speranza di trovare almeno i corpi delle persone scomparse ma non trovarono nulla. Il killer viene comunque messo in stato di fermo. Edward Jane veniva interrogato senza tregua presso la prigione di Bautoma. Dopo diversi giorni di silenzio, Eddie cominciò finalmente a raccontare la sua storia orribile. In totale Jane confessò quindi due omicidi, quello di una donna chiamata Warren e di Mary O'Gann, la custode della taverna e il furto di nove cadaveri. Durante gli interrogatori il macellaio non mostrò mai nessun segno di rimorso, parlava degli assassini con superficialità, a volte addirittura allegramente. Praticamente Edward Jane non aveva nessun concetto dell'enormità dei suoi crimini e così, venne effettivamente dichiarato malato mentalmente. Scampata quindi la sedia elettrica, Edward Jane ha passato il resto della propria vita in un manicomio criminale, dove è morto nel 1984 di cancro, all'età di 78 anni. La sua casa fu rinominata come la casa degli orrori e tuttora è un via vai di turisti e curiosi.